Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sulle ultime features di Tableau rilasciate con la versione 2022.2 Oggi andremo a vedere un miglioramento apportato al web edit su Tableau online o su Tableau server Sappiamo infatti che da diverso tempo Tableau sta investendo sempre più nel rendere il web edit più completo e di uniformare per quanto possibile il web edit a Tableau desktop Vediamo quindi le nuove opzioni disponibili relative alla formatazione Al momento mi trovo all'interno di un workbook su Tableau online e ho creato una semplice visualizzazione collegandomi al Sample Superstore Vediamo ora come modificare alcuni elementi come le linee e i separatori Con la nuova versione posso cliccare con il tasto destro in qualsiasi punto all'interno del grafico e ho l'opzione di selezionare Format worksheet Vediamo ora sulla destra si aprirà il menu della formatazione Ho la possibilità di modificare alcuni elementi come ad esempio i fonts che troviamo qui in alto Lo style, le linee, gli interactive controls così come anche i borders e i dividers quindi i divisori Per ognuno ho la possibilità appunto di cambiare alcuni elementi Tra cui i colori anche per quanto riguarda lo stile, il background, le grid line e anche le zero line Per quanto riguarda invece gli interactive controls qui c'è la possibilità di modificare alcuni elementi Tra cui le leggende, i filtri, gli highlighters e anche i parametri Infine in basso troviamo la sezione dedicata ai bordi e anche ai divisori Molto probabilmente sappiamo che o perlomeno possiamo immaginare che questa interfaccia sarà quella vincente Quando si tratterà di uniformare le piattaforme Vediamo anche tra i vantaggi che se mi sposto in un altro foglio di lavoro Il menu della formatazione resta sempre aperto sulla destra Come vedete appunto in questo momento Torno nel mio grafico iniziale E da qui posso iniziare ad apportare qualche modifica Ad esempio posso cambiare il colore del background Inserisco un grigio un po' più chiaro Posso decidere di modificare ad esempio le grid line Seleziono all E ho la possibilità di modificare o di aggiungere ad esempio le righe verticali Seleziono il menu a tendina clicco su on E poi da qui posso decidere di cambiare lo spessore Al momento seleziono, posso selezionare due Posso cambiare anche quindi due pixel Posso selezionare una linea tratteggiata E eventualmente selezionare un grigio un po' più scuro Per quanto riguarda gli interactive controls Anche qui ho la possibilità di modificare il body, il title E per quanto riguarda invece i bordi e i divisori Una delle novità principali riguarda la possibilità che Tableau ci dà di modificare Le righe o comunque i divisori a livello di pannello E anche a livello di headers Contemporaneamente Ma se noi andiamo a cliccare questa iconcina E andiamo a rompere appunto il link Possiamo modificare i divisori di pannello Adesso ho selezionato un colore un po' forte come l'arancio Adesso il nero Appunto per farvi vedere la modifica appena apportata La stessa opzione l'avrò nei divisori di colonna Un'altra invece features carina Riguarda la possibilità di andare a compattare Quindi collassare la sezione dei divisori a livello di riga e di colonna Attraverso il toggle che posso appunto disabilitare Quindi vedete che si tratta di piccoli step Implementati a livello di formattazione A cui sicuramente ne seguiranno dei successivi Grazie per il momento per l'attenzione E al prossimo video sulle release della versione 2022.2